Superate l'imbalanza dei primi statti, poi dopo uno parte ragazzi, non si ferma più, sono i due secondi più belli della tua vita Mi auguro che tutti voi abbiate già modo di sperimentare la bellezza, le gioie Una manifestazione per comunicare che l'AIDS è una malattia che dobbiamo ancora sconfiggere e vogliamo ricordarlo, oggi siamo vicino alla giornata mondiale di lotta all'HIV che è stato il primo dicembre, quindi due giorni fa in un modo molto divertente ma che ha ovviamente un obiettivo educativo che è quello di ricordare a tutti i ragazzi che l'AIDS è una malattia che deve ancora essere sconfitta e ha bisogno di tutta la loro attenzione, quindi anche dell'utilizzo del profilattico per proteggersi Siamo riusciti ad entrare in cento in un preservativo grazie alla collaborazione dell'Università Yulm e di tutti gli studenti che oggi hanno voluto partecipare a questo condom mob per ricordare che l'AIDS deve ancora essere sconfitto Luca! 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 Luca che si è occupata insomma dell'organizzazione di questo evento i ragazzi della Promo Bruce, Francesco che è lì a fare la botica Luca! 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 Luca